È un'occasione meravigliosa perché il teatro è anche dei bambini. I bambini si devono avvicinare al teatro, soprattutto anche all'opera, quindi è un percorso giusto, è un percorso corretto. Scala inaugura questa produzione per bambini per la prima volta e molto, molto importante è che questo è il pubblico di Romani. Quando sono entrata ero entusiasta perché non avevo mai visto la scala. Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato Cenerentola perché aveva un abito bello e le scarpette di argento con i brillantini. Grazie.